E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Esaminiamo ora alcune delle cose che io ti ho dato, specialmente quelle delle quali tu non puoi ancora riconoscerne come il donatore. Tu pensi, forse, che la posizione che occupi attualmente nella vita non sia la più adatta all'espressione della mia idea che incalza entro di te. Se così è, perché non esci da codè sta posizione e non vai in quella che sceglieresti? Il fatto stesso che tu fai o non fai o non puoi fare ciò, prova che per adesso tale posizione è la più adatta a svegliare in te certe qualità necessarie alla mia perfetta espressione. E che io, il tuo sé, ti costringo a rimanervi finché tu non riconosca il mio intento e il significato nascosto nel potere che codè sta posizione ha di turbare la tua pace di mente e di mantenerti così insoddisfatto. Quando tu avrai riconosciuto il mio significato e il mio proposito e avrai deciso di rendere tuo il mio proposito, allora, e solo allora, ti darò la forza di uscire da codè sta posizione e di passare in un'altra che ho previsto per te. Forse tu trovi che il marito o la moglie che ti ho dato sono ben lungi dal convenirti e dall'essere capace di aiutarti nel tuo risveglio spirituale, che essi anzi sono un impedimento e anche un danno. E tu puoi avere segretamente desiderato di lasciare e perfino aver coltivato l'idea di abbandonare quel compagno o compagna per un altro che è affine a te nelle aspirazioni e nella ricerca e che quindi ti sembra più vicino al tuo ideale. Tu puoi sfuggire alla mia scelta primitiva se vuoi, ma sappi che non puoi sfuggire alla tua personalità. Che nella sua brama egoista di un compagno spirituale tu sviluppi ancora di più il lato egoistico della tua natura, mentre un compagno antipatico ti obbliga a ripiegarti su te stesso e avvolgerti all'interno dove io dimoro. Così pure un compagno amabile, fedele, condiscendente incoraggerebbe in te soltanto l'egoismo e la superbia. Se tu non dimori ancora nella coscienza del mio amore impersonale. Mentre un compagno tormentoso ti fornisce appunto la disciplina dell'anima di cui hai bisogno e ti insegna il valore dell'opposizione e del dominio di se stessi. Solo che tu lo sapessi, colui che assume la parte del tuo presente compagno, in realtà è un angelo del cielo, uno degli attributi del mio sé divino, venuto a te per insegnarti con il dispotismo e l'opposizione, con l'egoismo, la durezza, il rigore, i quali sono soltanto ombre di qualità che esistono in te che la luce della mia idea dentro, irradiando attraverso la tua annebbiata personalità, getta sull'anima del tuo compagno, oscurandola, inceppandola, legandola alla sua personalità, magnificando e nello stesso tempo distorcendo queste ombre di qualità nella sua personalità, in modo che esse vengano innanzi audacemente, ostentando davanti a te il potere di turbarti e di tormentarti. Per insegnarti che solo quando tu avrai purificato la tua personalità di tali qualità, in modo che il mio sacro amore possa esprimersi, tu potrai essere liberato dalle condizioni che ora turbano tanto la tua mente e rendono così infelice la tua anima. Poiché, sappilo, quell'anima dolente ed incatenata, questo angelo del cielo, quest'altra parte di me e di te, è venuta a te e batte le sue ali contro la gabbia chiusa della tua personalità, in cui tu la aiuti a restare chiusa, mentre essa anela continuamente e si sforza di chiamare ad espressione attraverso te l'amore impersonale, la tenera, attenta cura verso gli altri, la calma della mente, la pace del cuore, il sereno e fermo impero di sé che possono spezzare i ceppi, aprire le porte e permetterle di uscire nella libertà del suo glorioso essere ed essere per te il suo vero sé. Soltanto allorché tu potrai vedere in quest'anima tutta la sua divina bellezza, benché ora ammalata e indebolita dai suoi ceppi terreni, sarà possibile per te trovare e riconoscere l'ideale che cerchi. Poiché quell'ideale non esiste all'esterno, in qualche altra personalità, ma solo dentro, nella tua controparte divina che è io, il tuo sé superiore, immortale. È solo la mia idea di questo tuo perfetto sé che si sforza ad esprimersi e manifestarsi mediante la tua personalità che ti mostra le apparenti imperfezioni nel compagno che io ti ho dato. Tempo verrà ad ogni modo in cui tu cesserai di cercare al di fuori l'amore e la simpatia, la considerazione e l'aiuto spirituale e in cui ti volgerai completamente a me, dentro, e allora queste apparenti imperfezioni spariranno. Allora tu vedrai nel tuo compagno soltanto il riflesso dell'amore altruista, della dolcezza, della fiducia, della fedeltà e lo sforzo costante a rendere gli altri felici. Tutte qualità che irradieranno luminosamente e di continuo dal tuo proprio cuore. Forse tu non puoi ancora credere completamente tutto questo e domanderai se io, il tuo se, sono proprio responsabile della tua presente posizione nella vita e se proprio io scelsi per te il tuo compagno presente. Se è così, è bene che tu ti interroghi finché tutto sia evidente, ma ricorda, io parlerò in modo molto più chiaro, direttamente dall'interno, solo che tu ti rivolga fiducioso a me per aiuto. Poiché io servo sempre i miei più sacri segreti per quelli che si rivolgono a me e che nutrono fede profonda e perseverante che io posso e voglio provvedere ad ogni loro necessità. Ma a te, che non puoi ancora fare questo, io dico. Se il tuo se non ti mise dove ti trovi e non ti diede il compagno che hai, allora perché tu sei così? Perché hai quel compagno? Pensaci, Io il tutto il perfetto non commetto errori. Sì, ma tu dici la personalità ne commette e la personalità scelse quel compagno e forse non ha meritato miglior posizione. Ma che cosa e chi fece scegliere alla personalità proprio quel compagno e quella posizione? chi scelse e collocò quel compagno in modo che tu potessi sceglierlo e chi ti fece nascere fra tutti i paesi proprio in questo paese, in questa città, fra tutte le città del mondo e proprio in questo tempo? Perché non in un'altra città e cento anni dopo? Fu la tua personalità che fece queste cose? rispondi sinceramente a queste domande dinanzi a te stesso e imparerai che io Dio in te il tuo proprio sé faccio tutte le cose che tu fai e le faccio bene. Le faccio nell'esprimere la mia idea che cerca di manifestarsi continuamente in forma esteriore quale perfezione attraverso di te mio vivente attributo pur restando nell'eterno interiormente. Quanto alla tua vera anima compagna che qualcuno ti ha indotto a credere che ti aspetti in qualche posto smetti di cercarla poiché essa non esiste al di fuori in qualche altro corpo ma dentro la tua anima poiché ciò che in te chiede complemento è solo il tuo senso della mia presenza dell'io dentro anelante di essere riconosciuto. Io la tua controparte divina la tua parte spirituale la tua altra metà a cui soltanto tu devi essere unito prima che tu finisca ciò che sei venuto ad esprimere in terra. Questo in vero è un mistero per te che non sei ancora sposato nella coscienza al tuo sé impersonale ma non dubitare se tu verrai in completa rinuncia e non ti curerai d'altro che dell'unione con me ti schiuderò le dolcezze dell'estasi celeste che da lungo tempo ho in serbo per te.